Chiudo questa carrellata serale con delle bevande tipiche. Adesso questa bevanda che vedete alla mia silistra è bollente, è un infuso, una specie di campot e io anche se non ho visto come l'hanno fatto, credo di aver indovinato cosa c'è dentro. C'è quel frutto che a vedersi ha la forma del fico, proprio identico al fico scuro. È un fico con la pelle del serpente scura, color castagna e ha anche il sapore castagna. Adesso un frutto, io non so come si chiama questo frutto, però bene o male qui nel Borneo e anche nella parte della Malesia peninsulare, quel frutto lì l'ho mangiato e si trova un po' dappertutto e devo dire che l'infuso fatto con quel frutto lì è squisito. Mi hanno detto che c'è anche dentro un po' del miele che questo infuso qui ha delle proprietà terapeutiche. Questo qui invece è una specie di passato di frutta molto polposo, proprio dentro i pezzettoni. E anche questo qui è fatto con la frutta tropicale, buonissimo, per cui sto vivendo un'esperienza indimenticabile sia per quanto riguarda i colori, le emozioni, i paesaggi e anche e soprattutto dal punto di vista culinario. Ok ragazzi, se volete venire a fare un girettino anche voi in Indonesia oppure in Malesia continuate a seguire i miei canali internet e ve la do io l'Indonesia. Ciao a tutti!